I Sussex hanno subito una serie di colpi nelle ultime settimane. Inclusi accordi con i media falliti, e un presunto affronto da parte dello stesso presidente degli Stati Uniti, il principe Ferri e Meghan Markle sono sulla via d'uscita, ha affermato un commentatore reale, mentre la coppia vacilla per diversi colpi nelle ultime settimane. I Sussex sono stati slobbati dagli Emmy, e hanno perso il contratto con Spotify negli ultimi mesi e ora, secondo quanto riferito, sono stati evitati da Joe Biden. È stato affermato dal Daily Mail che l'anno scorso, dopo il funerale della regina, Ferri e Meghan, hanno chiesto a Joe Biden se potevano fare un passaggio con lui negli Stati Uniti nell'Air Force One, ma la loro richiesta è stata rifiutata. La commentatrice reale Daniela Elser ha detto che la richiesta suonava come uno stratagemma del Sussex a tutto tondo. Ha aggiunto, potrebbero aver abbandonato il pollaio reale, ma sembrano ancora pensare che dovrebbero avere diritto ai pezzi benefici e brillanti della vita lavorativa reale ufficiale. Il commentatore reale Phil Dampie, ha detto a GB News che la serie di colpi era un segno che la coppia era sulla via d'uscita. Ha aggiunto, non li vediamo più con gli Obama, non li vediamo più con Oprah. Joe Biden è molto felice di tirare le fila in background riguardo al visto di Ferri, ma in realtà è abbastanza vicino a King Charles, vedono negli occhi cose come il cambiamento climatico. Se vuole avere un secondo mandato, deve avere rapporti migliori con lui. Sebbene i Sussex non abbiano risposto direttamente all'affermazione dell'Air Force One, un insider vicino alla coppia ha detto a Page Six che le voci di uno scisma tra i due non sono vere, e letteralmente inventate.